La cultura come rivoluzione, il festival di letteratura politica e sociale World Citizen che si terrà a Bitonto con una puntatina a Mariotto dal 26 novembre al 5 dicembre prossimi, ha come obiettivo la comprensione dello stretto legame tra civiltà e cultura, la vera ricchezza di questo paese. Decine le autori che si alterneranno in diversi luoghi della cittadina, da Elio Veltri a Giovanni Valentini, da Stefano Rolando a Marco Follini, fino a Luciano Canfora e Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica, ucciso a settembre del 2010. Oltreventi gli appuntamenti durante i quali si cercherà di spiegare come funziona la macchina della politica, dove e come sbagliano i nostri politici, quale futuro ci aspetta e in quale futuro possiamo sperare. Il festival organizzato dall'associazione Golem in collaborazione con la libreria del teatro e con il patrocinio del comune di Bitonto, messo su in poco più di due mesi, si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. La Galleria Nazionale della Puglia, Girolamo e Rosaria De Vanna, il Teatro Comunale Traetta, il Museo Archeologico Fondazione De Palo Ungaro, il Cenacolo di Atrio e San Nicola, il Torione Angioino, il Convento di San Leone Magno e Palazzo di Città di Bitonto. Tutti insieme dunque, pubblico e privato, per fare in modo che Bitonto diventi per 11 giorni capitale della letteratura più impegnata. La dimostrazione di come sia importante fare le rete così come hanno spiegato durante la conferenza stampa di presentazione l'assessore al marketing territoriale di Bitonto, Rino Mangini e Nicola Pice, presidente della Fondazione De Palo Ungaro. Grande sarà il coinvolgimento dei giovani, volontari soprattutto, coinvolgimento garantito anche da chi, come Domenico Nacci, assessore alle politiche giovanili del comune di Bitonto, con i giovani ci lavora abitualmente. Un festival che è motivo d'orgoglio per Bitonto e per l'intero territorio pugliese, un numero zero che ha tanta voglia di andare avanti e che restituisce la città e il posto che le spetta nel panorama culturale regionale.